Ehi la, ah Dio, come risposta a quello che il nostro Paolone ci ha fatto vedere vi dico non basta allenare i muscoli perché in questo sport è una questione di atleticità e di resistenza anche, puoi essere grosso finché ti pare, puoi fare tanti sollevamenti che vuoi ma se non duri un cazzo non vali niente e a questo proposito ho una proposta per te caro Paolo, eh sì perché vedi a differenza tua io corro, faccio atletica ma mi alleno anche e quindi se mi dai la possibilità ho una proposta per te, ciao Ciao